Sud, popolato da cinesi, immigrati ed un sindaco della Lega, Vincenzo Catapallo, che ha vinto al ballottaggio con oltre il 70% delle preferenze. La gente chiedeva in campagna elettorale a me di aderire alla Lega e soprattutto mi chiede ancora oggi di avere la possibilità di conoscere Matteo Salvini, di averlo qui a San Giuseppe Vesuliano. In questo piccolo comune ha pagato la linea dura di Salvini, tanto che il sindaco, dopo essersi schierato dalla sua parte, ha raddoppiato i consensi. Perché vengono qui tanti tanti di quelli stranieri, i polacchi, i curai, i numerocchini, i papri, le scicidenze. Io vorrei più possibilità per i cittadini italiani. Stretti di mano, abbracci. Addirittura un bacio lanciato dalla macchina per il sindaco, posso chiederle perché? Perché è numero uno. Impossibile chiacchierare con l'avvocato Cipal Tunel senza essere interrotti. Si sarebbe alleato al posto suo con la Lega. Lui ha fatto bene anche perché ha fatto credere a tutti gli italiani che avrebbero mandato via 640 mila stranieri. E speriamo che lo fa. Posso chiederti dove state andando? Oh, l'italiano a poco poco. Giuseppe Vica, tu sei...